Siamo qui con l'avvocato Di Nardo, la tutrice di Antonio Angelo, il 39enne, con problemi psichici, che è morto presumibilmente a seguito di un caso di malasagnità. Avvocato, ci puoi spiegare un po' tutti gli avvenimenti che hanno portato poi alla morte del 39enne? Io sono stata allertata dalla signora della responsabile del centro ieri mattina, verso le 9.30, la quale mi faceva il preambolo dicendomi che Angelo Antonio se l'ha sentito male il giorno prima, verso le 7 di sera, non ce la faceva camminare, non ce la faceva muoversi, e lei ha chiamato la guardia, il 118. Questo domenica, giusto? Chiamando il 118, quelli del 118, pensando che il ragazzo fosse andato in crisi, avevano suggerito alla signora di chiamare invece l'igiene mentale. E gli fanno dei prelievi, poi alla fine lo dimettono dicendo che aveva dei disturbi della personalità. La signora, dovuta comunque poi adoperarsi lei con i propri mezzi per riportare con l'ambulanza il ragazzo di nuovo in struttura, messo a letto il ragazzo, l'hanno lasciato dormire fino alle 9 del mattino. E quando poi si regolano nella stanza di Angelo Antonio, all'improvviso si rendono conto che il ragazzo aveva perso i sensi. Ho chiamato il direttore sanitario e ne hanno accertato poi che effettivamente era morto. E adesso quali sono le iniziative anche di tipo legale che vuole intraprendere la famiglia? E beh, sicuramente accertare la morte, come è morto il ragazzo, perché fondamentalmente, ripeto, al di là dei disturbi di cui soffriva il ragazzo, ma dal punto di vista poi medico, era sano, stava benissimo, non soffriva di niente. E' assurdo morire così senza sapere come e perché.